Insospettiti dal fatto che la società non presentava la dichiarazione dei redditi, i finanziari della tenenza di Bisogne hanno cominciato ad indagare per ricostruire il reale fatturato di un'azienda che all'apparenza vendeva pubblicità e che aveva sede legale sul Sebino Bresciano. La Guardia di Finanza ha così appurato che non esisteva nessun servizio per le moltissime fatture che la società, rivelata sì, quindi Cartiera, emetteva ad aziende della provincia di Brescia, Bergamo e Milano che a loro volta, in questo modo denunciando costi mai sostenuti, evadevano il fisco IVA e IRAP. Le fatture emesse per operazioni inesistenti ammontano a bene 13 milioni di euro. Denunciato per emissione di fatture false, occultamento e distruzione delle scritture contabili, il legale rappresentante, o meglio il prestanome, che era riuscito a gonfiare fittiziamente i costi per poter dichiarare falsamente un utile imponibile di molto inferiore rispetto al reale. Indagini complesse per via della totale assenza di documentazione, nessuna richiarazione, nessun archivio o materiale contabile, come al solito le fiamme gialle al comando del luogo tenente Bruno Gerbini, hanno svolto indagini accurate sui movimenti bancari e sul territorio raccogliendo informazioni. Indagini durate quasi un anno, cominciate nel febbraio del 2016, che permetteranno di rimediare al danno procurato alle casse dello Stato e di ristabilire la legalità nei confronti delle aziende concorrenti che operano onestamente sul territorio breciano.